si vede bene? non si vede niente però vuoi qualcosa da si vede? siamo nell'abitazione si, io penso di essere avanti a casa di Valentino Rosso però, credo, adesso guardiamo numero 46 dovrebbe essere questa proviamo a suonare e vediamo se ci apre qualcuno che cacchio, Marco, è questa? il numero è questo, si c'è detto 46 46 c'è la luce anche accesa dentro ma è di legno mira come si vede mira che particolare mira anche al legno non vale è la sua sicuramente vi proviamo a suonare che bella che è Dio cacchio è bella fisca secondo me un giro 360 gradi in varie città, in varie case, in vari buchi e arrivare al buco 46 back, dietro la lotteria